I nostri vecchi mulini sembrano fuori dal tempo, un pezzo di vita che appartiene al passato e invece, grazie all'impegno di tanti, sono vita e in vita. Abbiamo anche scoperto che certe farine danno corpo e sapore diverso al pane, ma non ci si ferma qui. Il 24 e 25 giugno, nella storica fucina Cavallari di Castello dell'Acqua, verrà organizzato un corso base di forgiatura. Esperienza pratica di forgiatura dell'acciaio, dal riscaldo alla manipolazione alle finiture con maglio, martello e incudine. Perché si sono appunto perse un po' le conoscenze, nel nostro caso noi abbiamo avuto un ultimo fabbro che purtroppo ci ha lasciati e lì c'è proprio il rischio che si apra nel futuro anche un vuoto sulle modalità di utilizzo della fucina stessa. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e dal Comune di Castello dell'Acqua, nell'ambito del progetto dall'Acqua, legno e pietra, coordinato dalla comunità montana con la collaborazione della Proloco di Castello dell'Acqua, del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, del FAI, Delegazione di Sondrio. La macinatura pietra mantiene il germe del grano che è la parte più nutriente del cibo, del grano, del grano turco, della segale. Il vantaggio è che siccome la pietra non scalda il grano, questo si mantiene praticamente tutte le sue caratteristiche. La comunità montana, in collaborazione con i comuni di Berbenno, Castello, Castione, Cedrasco e Montagna, prosegue nella valorizzazione e salvaguardia dei vecchi mulini e della loro storia. La comunità montana da tempo si è impegnata a recuperare i vecchi mulini presenti nel territorio del mandamento, ne sono stati identificati cinque, su questi è stata realizzata anche una produzione che possa dare contezza del loro funzionamento, dalla loro posizione, di cosa hanno rappresentato per l'economia delle nostre valli e dei nostri paesi nel corso del tempi. E questo corso di forgiatura ci consente non solo di far conoscere la struttura, quindi dove è ubicata, come è composta e come funziona, ma anche manualmente poter comprendere il funzionamento e i principi attraverso i quali avviene la produzione dei manufatti.